Bella raga, buonasera, Juventus batte Bologna 2-1 con tanta 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 sofferenza, sofferenza nel finale perché alla fine il risultato è meritato, Skorupski ha fatto almeno tre parate l'ultima su Cristiano Ronaldo favorosa, anche se sul gol di Ronaldo mi sa che non era esente da colpe perché prendere un gol sul proprio palo, ho capito, Ronaldo ha tirato forte, terreno bagnato, sono un po' influenzato, però prendere un gol in quella maniera, però si è riscattato benissimo con le parate su Chedira, su l'uscita bassa su Higuain, grande parata su Ronaldo in contropiede e poi alla fine, infatti quello che ho detto all'amico mio, ho detto questo se non la chiudi la possiamo pareggiare, la stavamo pareggiando, c'è stato un contatto di mani con De Ligt, ma io sinceramente c'è stato il pareggio di Danilo, gran gol di Danilo, ho trovato il gol del sabato, poi la Juventus è andata di nuovo in vantaggio, anche con un bel gol di Miralem Pjanic, decisivo come a Brescia. scusate ancora però, e poi alla fine questo contatto praticamente Danilo De Ligt va in scivolata, non prende il pallone, la devia poco poco con la gamba, la prende col gomito, ma io quei rigori sinceramente non li darei mai, anche se un nuovo regolamento ci potrebbe anche stare, bene, però per me sinceramente non è rigore. E poi alla fine un calcio di posizione, traversa di Santander, sulla ribattuta ancora Santander, super parata di Gigi Buffon, anche se guardando le immagini con replay con calmo, visto che comunque Santander era partito in posizione di fuorigioco, però comunque un brivido corso, e l'albero non aveva fischiato fuorigioco, ha dato anzi calcio d'angolo e quindi alla fine l'angolo poi il tempo era scaduto e non è stato battuto. Proteste del Bologna, li posso anche capire, Bologna ha fatto una grandissima partita, ha mantenuto testa alla Juventus, si è resa pericolosa in contropiede, ovviamente la partita l'ha fatta la Juve, ha fatto almeno 3-4 parate, lo sto rivedendo gli Elites, ha fatto almeno 3-4 parate Skorupski, Ronaldo scolpi testa a calcio d'angolo, su Higuain, l'uscita su Higuain, l'altra parata su Ronaldo, una partita che si doveva concludere 4-5-1, e alla fine abbiamo rischiato di pareggiarla, però per fortuna abbiamo vinto, andiamo momentaneamente a più 4 sull'Inter che domani alle 12.30 giocherà al Mappé Stadium di Reggio Emilia sul Sassuolo, l'importante è vincere, ci teniamo stretto questa vittoria, io vi auguro una buona notte e sempre fino alla fine Forza Juve, ciao a Juve!